Siamo a Forio dall'edicolante Carlo Lieto che esercita l'attività da quasi 40 anni nel comune di Forio solo che negli ultimi tempi è accaduta una cosa un po' spiacevole che adesso ci racconta. Il comune mi ha dato lo sfratto in questo locale in quanto ha recesso il contratto della lista di titolare e io dopo aver firmato un contratto per sei anni mi ritrovo in mezzo alla strada. Il comune sta trovando una soluzione però la vuol trovare le mie spese, io comprando il chiosco che non è le mie possibilità, perché io il chiosco ce l'avevo, è stato rottamato perché mi hanno messo qui dentro e adesso ho un contratto di sei anni qui dentro e il comune non lo so come vanta a finire. È stata avviata anche una raccolta firme che in pochissimo tempo ha avuto tantissime adesioni. Sì, sì, è stata mia figlia che ha fatto questa raccolta firme. Io non è che non voglio niente dal comune, io voglio lavorare. Il comune ha recesso il contratto a questo locale, beh mi dia una soluzione lui, non la devo trovare io di mia spesa, perché io il chiosco ce l'avevo, me l'ha fatto rottamare. Un comune mi ha messo dentro e un comune mi sta cacciando, in un anno. Io quando mi arrivano le carte di sfratto, mi arrivano i comuni di Forio, non mi arrivo del Deo oppure Stani Verde. Ecco, lei chiede parallelamente allo sfratto anche una sistemazione adeguata. Io sto qua, faccio un contratto destinato, se il comune ha deciso di ricevere questo contratto, va bene, ma a me va bene lo stesso. Però mi trovo una soluzione a lui, non la devo trovare a mie spese. Io questo cerco, non è che io cerco... Il comune mi trova la soluzione a sue spese, non a mie spese. Perché io ho un'intenzione di investire sull'edicola che ormai è finita come vestiere. Io devo investire 20-30 mila euro su un'edicola che ormai è quasi alla fine. Come vestire è finito. Lo dice con rammarico. Io ho accettato questi sei anni, che erano la fine del mio percorso. Perché dopo questi sei anni, non so se ce l'edicola, va ancora avanti. Io non posso investire su un vestire che è finito. Grazie. 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 Grazie.